come essere un comunicatore efficace in sette semplici passi. Migliorate le vostre capacità di comunicazione e godete di una nuova fiducia in voi stessi e di un maggiore successo. La comunicazione efficace è un'abilità essenziale per raggiungere il successo in tutti gli ambiti della vita, sia personale che professionale. Le abilità comunicative generano fiducia e ottimismo, due tratti caratteriali che consentono di raggiungere i propri obiettivi. Per alcuni la comunicazione viene naturale, per altri è più difficile. Ma se rientrate in quest'ultima categoria, non avete bisogno di una laurea in comunicazione per farvi ascoltare o per ottenere ciò che volete e di cui avete bisogno. La sfida di essere un comunicatore efficace diventa molto più semplice se si seguono questi sette passi. Identificare gli obiettivi Cosa sperate di ottenere, nell'immediato o a lungo termine? Quale azione o risposta da parte del pubblico dimostrerà che avete comunicato con successo? Comprendere i vostri obiettivi vi aiuterà a modellare il vostro stile di comunicazione e a rendervi più efficaci. Ascoltare attivamente La comunicazione non si basa solo su ciò che dite. Se volete che le persone vi ascoltino, dovete ascoltarle. Non concentratevi così tanto su ciò che state dicendo da perdere i loro commenti, le loro emozioni e le loro reazioni. Allo stesso modo, quando gli altri parlano, ascoltate ed elaborate ciò che stanno cercando di comunicare invece di pianificare la vostra risposta. Quando tutti sono coinvolti attivamente, la comunicazione è molto più efficace. Osservare il linguaggio del corpo La comunicazione non si basa solo sulle parole pronunciate, ma anche su ciò che dice il corpo. Senza rendersene conto, il linguaggio del corpo può inviare un messaggio più forte delle parole. Se vi sedete o state in piedi con le spalle ingobbite e le braccia conserte sul petto, dimostrate di avere la guardia alta e di non essere disposti a discutere in modo produttivo e bidirezionale. In alternativa, se vi sedete o state in piedi con le braccia a lungo i fianchi o vi rilassate in una posa più informale, dimostrate apertura e volontà di comunicare, prima ancora di aver detto una sola parola. Conoscere il pubblico Lo stesso discorso, conversazione o proposta di vendita non avrà successo con ogni pubblico. Modificate il vostro linguaggio per ogni gruppo, in modo da non essere accondiscendenti o da non parlare in modo incomprensibile per il pubblico. Adattare il modo e il contenuto del discorso al pubblico migliorerà le vostre capacità di comunicazione. Ritmo Prestate attenzione alla velocità con cui parlate e se il vostro pubblico sembra elaborare ciò che dite. Se necessario, rallentate e variate il volume e il ritmo del vostro discorso per mantenere l'attenzione. È importante ripetere deliberatamente i punti importanti alcune volte per assicurarsi che gli ascoltatori sentano ciò che avete da dire. Scegliere il momento giusto Se avete intenzione di chiedere un aumento al vostro capo, assicuratevi che sia di buon umore. Se c'è un grosso problema sulla linea di produzione o la vostra azienda ha perso un grosso cliente, non è il momento migliore per sollevare l'argomento. In generale, quindi, sia che stiate pianificando di dare una notizia buona o cattiva, sia che stiate semplicemente presentando una nuova idea che richiede energia e concentrazione, siate consapevoli della mentalità del vostro pubblico. Il tempismo è un fattore importante per il successo della comunicazione. Siate chiari. Non perdete troppo tempo a preparare la vostra idea o richiesta. Comunicate chiaramente le vostre esigenze e i vostri desideri. Non solo eviterete malintesi, ma guadagnerete rispetto grazie alla vostra onestà e chiarezza e avrete maggiori possibilità di raggiungere il vostro obiettivo. I grandi comunicatori scelgono bene le parole, capiscono il loro pubblico e si mettono in contatto con loro al momento e nel luogo giusto. Applicando questi consigli ed esercitandovi spesso, potrete padroneggiare le competenze e imparare a essere un comunicatore efficace.